Grazie innanzitutto, grazie dell'invito che mi ha fatto davvero piacere, è un onore ovviamente poter parlare in questa sede. Il tema in parte l'ho scelto, l'ho proposto, proprio perché purtroppo rischia di essere d'attualità, cioè parleremo di fine della crescita, parleremo di crisi, parleremo di mutamenti climatici, di impatto ambientale, di sostenibilità o non sostenibilità di tutta una serie di scelte portate avanti dagli uomini del 200. Questi anni, questi anni difficili che culminano in modo drammatico quella grande peste nera del 1348, quella che tutti conoscono perché è in quelle tremende e bellissime prime pagine di Giovanni Boccaccio, del Decamerone, una malattia devastante, forse la più pesante pandemia, cioè epidemia su larga scala che l'umanità abbia conosciuto. Difficile calcolare quanti milioni di morti abbia fatto, ma insomma si calcola che solo in Europa sia scomparso circa un terzo della popolazione, il che vorrebbe dire fra i 20 e i 25 milioni di persone in tre anni. I contemporanei si interrogavano sul perché, sul perché diciamo immediato, ma anche sul perché metafisico di un disastro del genere e tutto sommato anche gli storici. Questa grande domanda è passata anche agli storici. Non che gli storici ovviamente si chiedessero i motivi astrali o teologici, ma come, che giudizio storico dare della peste? Cioè come rientra una cosa del genere nella storia dell'umanità? e la prima spiegazione era questa, cioè rientra come un disastro non prevedibile che sconvolge il quadro e allora bisogna interrogarsi, bisogna interrogarsi su cosa implica la crescita e se c'è una responsabilità dell'uomo nelle catastrofi che lo colpiscono. Per cui idee già partite negli anni 30 ma sistematizzate negli anni 60, dalla fine degli anni 50 ai primi anni 70, un distogliere, alleggerire la responsabilità della peste e invece un concentrare l'attenzione sull'azione umana. Cioè si viene a dire sì, la peste c'è stata nessuno la nega ovviamente, ma la peste arriva a colpire un mondo già in crisi. Nasce la nozione di crisi del primo 300, quello appunto a cui ho intitolato la conferenza. Quindi che cosa succede? Che la peste si ha un impatto fortissimo ma non cambia realmente le carte in tavola, anzi in qualche misura la peste diventa quasi necessaria, adesso lo vedremo. E l'ispirazione per giustificare la crisi di questa crescita, la fine di questa crescita viene presa nell'opera di un grande economista settecentesco britannico, cioè Thomas Malthus, quello che vedete raffigurato a sinistra nella slide, e Malthus aveva formulato una ipotesi di lavoro molto semplice, cioè che mentre la popolazione tende a crescersi in maniera geometrica, quindi raddoppiando ogni generazione, 2, 4, 8, 16, le risorse tendono a crescere in maniera aritmetica, cioè sommando a ogni generazione, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Il modello Malthusiano non viene recepito brutalmente, la riflessione degli storici articola questo modello introducendo un concetto molto forte, cioè non che la crescita della produzione agraria soprattutto non tiene dietro all'aumento della popolazione, ma introduce il concetto di esaurimento delle risorse, un concetto che cominciava vagamente a farsi spazio, no? Anche il dibattito ecologico comincia a nascere fra anni 60 e anni 70 e la storia lo recepisce e se ne fa un argomento, cioè qual è il modello esplicativo? Noi possiamo, aumenta la popolazione, deve aumentare anche la produzione agricola per sfamare questa popolazione. Ora noi possiamo aumentare la produzione in due maniere, possiamo aumentare la produttività oppure possiamo mantenere la stessa produttività e aumentare la produzione allargando gli spazi coltivati. No, mi spiego, facciamo un esempio contemporaneo, produco automobili, se voglio raddoppiare la produzione di automobili posso introdurre tutta una serie di miglioramenti, robot, nuove informatizzazioni, in maniera che la stessa fabbrica produca il doppio di automobili nello stesso tempo, oppure posso non fare niente di tutto questo e aprire una seconda fabbrica di automobili. Ecco, il modello medievale è il secondo, non si aumentava la produttività dei campi, se non in maniera irrisoria, ma si trovavano nuovi campi, no? Questo è il celeberrimo affresco sugli effetti del buon governo di Abrogio Lorenzetti, conservato a Siena, e gli effetti del buon governo nelle campagne ci mostrano questo paesaggio abbastanza realistico e come vedete completamente modellato dall'uomo, no? C'è qualche bosco lontanissimo sullo sfondo, scusate, ho sbagliato tasto, vedete, sì, qualche bosco lontanissimo c'è, ma nelle vicinanze della città tutto è stato tagliato e ridotto cultura. Questo porta a quello che gli storici italiani hanno definito il circolo vizioso dell'agricoltura. Non è che non lo capissero nel Medioevo, ma una volta entrati nella trappola non si poteva uscirne, cioè bisognava comunque continuare, perché interrompere avrebbe voluto dire, sì, magari in tre o quattro anni ci si riprendeva, ma sarebbero stati tre o quattro anni di carestia durissima e quindi non ce lo si poteva permettere. Alla fine la società europea del Trecento è una società già in crisi, già pericolosamente in crisi, in cui la catastrofe malthusiana incombe. In questo senso, paradossalmente, e anche qui un grande storico divulgatore, Carlo Cipolla, che forse qualcuno di voi conosce come studioso della stupidità, perché ha scritto questo piccolo best seller sugli stupidi, ma in realtà è stato un grande storico economico, oltre che un arguto punzecchiatore. Ecco, Carlo Cipolla presenta e diffonde quest'idea appunto della provvidenzialità della peste. La peste fornisce quella catastrofe malthusiana, non malthusiana in realtà perché è esterna, ma supplisce, ecco, alla catastrofe malthusiana che così non ha bisogno di prodursi e non solo, siccome è molto più drastica della catastrofe malthusiana, risana drasticamente la situazione europea. Quindi la peste non viene più collocata come il momento che pone fine a uno sviluppo europeo e lo interrompe per 150-200 anni, ma un evento che pone fine a una crisi e rilancia, però nel frattempo la ricerca andava avanti, perché non c'è solo il dibattito teorico, ma c'è la ricerca sul campo, la ricerca negli archivi, il dialogo sempre più frequente fra studiosi, e l'interpretazione data da Cipolla e dagli storici malthusiani cominciava a rivelare tutta una serie di fragilità e di debolezze. Per esempio, quando ci si è messi a contare le carestie, qui vi ho fatto una tabellina, le grandi carestie, secondo le ricerche più recenti, se le scandiamo per 50 anni, scopriamo una cosa interessante, c'erano anche prima che di quel momento, cioè la fine del 200 e gli inizi del 300 in cui si sarebbe dovuta verificare questo squilibrio fra popolazione e risorse. Ora, lo studio dell'economia agraria, soprattutto dal punto di vista dei contadini, è una pratica abbastanza recente, è stata proprio stimolata, oltre che da quel enorme pioniere che è stato Mark Bloch, fra le due R, proprio dagli studiosi neomalthusiani. Si è visto che in realtà le campagne europee avevano vissuto una grande stagione di aumento anche della produttività. Perché? Perché sono stati introdotti nuovi metodi di coltivazione, perché c'è stata una diffusione ampia dell'irrigazione, rinasce anche se molto empiricamente una scienza agronoma e quindi si selezionano colture più adatte al territorio. Poi invece si è scoperto che la grande parte, la grandissima parte dei commerci via mare erano merci pesanti e banali, in particolare formento. Per cui, anche se c'era questo squilibrio fra popolazione e risorse, grandi parti d'Europa lo compensavano semplicemente importando frumento dalle zone meno popolate. Il disequilibrio fra popolazione e risorse aveva già tutta una serie di anticorpi interni e probabilmente la situazione era molto meno drammatica di quello che tradizionalmente, insomma, che classicamente avevano pensato gli studiosi neomaltusiani. Mentre si ripensava il problema della storiografia, della crisi, e si ripensavano le interpretazioni neomaltusiane, succedeva un'altra cosa, che gli scienziati, per i fatti loro, senza dialogare con gli storici, stavano sviluppando tutta una serie di tecniche per indagare sul passato della terra, attraverso non la testimonianza degli uomini, come si era fatto fino a quel momento, ma attraverso la memoria della natura. Già negli anni Sessanta ci si era accorti dell'importanza di questo approccio, in particolare uno studioso francese, Emanuele Rouala-Durie, ha scritto questo libro fondamentale, in cui appunto cominciava a fare i conti con i primi dati tratti dagli archivi della natura e li metteva in dialogo in maniera molto interessante con i dati degli archivi umani. Il clima nella storia umana non è stato affatto costante e che in particolare i secoli della grande crescita medievale corrispondono a un periodo genericamente chiamato caldo e che la crisi del primo trecento corrisponderebbe alla fine di questo periodo caldo all'inizio di un altro periodo noto come piccola era glaciale, cioè un periodo freddo che avrebbe occupato la gran parte dell'età moderna. E questo già complicava tutto il quadro perché il clima non è nelle mani dell'uomo. Scusate, lo dico subito perché la cosa sia molto chiara, non era nelle mani dell'uomo perché in realtà, se poi si studiano questi grafici, si vede che il mutamento climatico degli ultimi vent'anni è fuori scala rispetto a questo, quindi la presenza di mutamenti naturali delle temperature non esclude per nulla che adesso con il nostro peso tecnologico stiamo davvero cambiando il clima. Quindi la natura si sta conquistando, ci sono resistenze fortissime in realtà nella storiografia, ma sta sempre di più conquistandosi un ruolo di coprotagonista. E allora la crisi del primo 300 diventa una crisi meteorologica. Il maltempo che influisce sui raccolti, influisce sulle malattie. Perché? Perché il freddo favorisce, lo sappiamo tutti, l'influenza si diffonde d'inverno perché abbatte le difese immunitarie e il freddo. Quindi il maltempo e freddo favoriscono lo sviluppo delle malattie, ma anche in maniera più diretta. Se c'è maltempo il bestiame non può pascolare nei prati e quindi è concentrato nelle stalle, quindi le infezioni si diffondono molto più rapidamente. lo stesso gli uomini. Le malattie a loro volta grazie allo studio del DNA hanno conosciuto, le conosciamo molto meglio, siamo in grado di capire che malattie hanno colpito gli esseri umani. Per esempio la pesta del 1348, secondo alcune ricostruzioni recenti, funziona proprio in un tremendo convergere di fattori climatici, naturali e umani. Cioè che cosa succede? Che la pesta è una malattia sostanzialmente che non ha effetto, insomma, non patogena e mai endemica, in delle specie di roditori dell'Asia centrale. Ma il raffreddamento, una serie di anni di maltempo legati al raffreddamento climatico negli anni 30 del 300 ha tolto a questi roditori i cereali selvatici di cui si nutrivano. Allora questi roditori sono andati a cercarli dove c'erano un sacco di cereali, cioè dove gli uomini li coltivavano. E qui hanno passato le loro pulci ai ratti, che però invece non hanno gli anticorpi di questi altri roditori e quindi si ammalavano e morivano. Una volta morti i ratti le pulci si sono spostate sugli uomini e anche gli uomini venivano contagiati, che morivano. Purtroppo queste zone coltivate erano le grandi città carovaniere dell'Asia centrale, perché se fossero stati piccoli villaggi, sarà successo centinaia di volte, un piccolo villaggio ci si ammala, un po' muoiono e poi l'epidemia finisce. Ma queste erano le grandi vie carovaniere che univano l'Oriente all'Occidente. Quindi l'introduzione del fattore naturale ha complicato moltissimo il nostro sguardo. L'ha complicato però in una maniera forse eccessiva, nel senso che il rischio è di eliminare completamente il fattore umano e dire vabbè è questione solo di fortuna e di sfortuna, nel 300 sono stati sfortunati. In realtà probabilmente c'è una possibile sintesi che è quella di studiare la dimensione ecologica, cioè di studiare non singolarmente l'effetto dell'uomo sulla natura e neanche singolarmente l'effetto della natura sull'uomo, ma cercare di capire come si intrecciano i due elementi. Allora noi possiamo pensare a un quadro un po' più complesso, in cui la natura e l'uomo interagiscono, in questo caso interagiscono purtroppo verso il disastro. Per cui, per esempio, partiamo dall'assalto alle foreste. L'assalto alle foreste c'è e ha cambiato, avete la cartina sulla destra, che è una ricostruzione del banto forestale nell'Europa centrale prima e dopo la cura. ha degli aspetti positivi, indubbiamente, nuove città, vie di comunicazione più semplici, spazi umani, si allargano gli spazi degli esseri umani sicuramente. Ma se noi lo leggiamo dal punto di vista ecologico è un disastro. La biodiversità, questo valore che adesso stiamo scoprendo, viene devastata. Ora, il disboscamento ha prodotto un gravissimo problema, cioè riducendosi il manto forestale è diventato sempre più difficile cacciare. Ora, cacciare che diventa un privilegio, tendenzialmente i boschi vengono chiusi e riservati, la caccia dei boschi viene riservata ai nobili o a chi appaltava la foresta. L'ampliamento dei coltivi riduce tantissimo l'accesso dei contadini alla carne. C'è più grano, ma l'alimentazione è più monotona. Quindi, perché non pensare che quando arriva la peste del 300, arriva su una popolazione indebolita, per esempio, da un regime alimentare non scarso magari, perché appunto le carestie, abbiamo visto, non sono davvero più gravi, ma più monotono. Quindi la peste potrebbe trovare spiegazione anche in questo, anche nella combinazione che si rivela micidiale da quel punto di vista, fra un'economia globalizzata, che quindi porta malattie nuove da territori ignoti. No, questa cartina che mostra la diffusione da est a ovest della malattia. una novità per una popolazione che non riesce, non ha le contromisure, poi le troveranno appunto poco efficaci, ma comunque un po' efficaci le troveranno. E forse è anche una popolazione indebolita, che non ha la forza, per cui muore più gente, perché? Perché la cattiva alimentazione rende più vulnerabili le persone. Ecco, qui finisco, perché il quadro è questo, ci sono ancora ricerche da fare, ci sono cose da fare. Quello che spero soprattutto di avervi trasmesso è questo, l'interesse dell'interrogarci sul passato, non per tararne lezioni per il presente, perché tra il XIV secolo e adesso c'è un abisso di conoscenze, di tecnologie disponibili, di energia disponibile, ma perché interrogandoci sul passato, istintivamente ci interroghiamo anche sul presente. E quindi è un esercizio che stimola il nostro senso critico e stimola la nostra voglia appunto di affrontare le sfide del presente. Grazie. Grazie.